Sassuolo ha fatto un'ottima partita nella parte di difesa, hanno avuto un rigore, secondo me basta, noi manchiamo un po' dell'ultimo passaggio, l'ultima idea del parto offensivo oggi, è una cosa che ovviamente dobbiamo lavorare, però tutti chi deve dare una mano su quello. Io mi sento bene, mi sento in condizione per dare una mano alla squadra e poi alla fine mister che prende la decisione, adesso io devo vedere come sto domani, dopodomani, quello è una bella domanda e poi vediamo, però io faccio il massimo per recuperare, stare bene e essere a disposizione alla squadra e poi se mister mi serve io sono pronto. Se tu stai fuori o vedi in televisione tu sei anche un po' più lucido perché vedi in un'altra maniera, però quando sei in campo ti metti anche in condizione a forza ogni tanto a spingere un po' di più perché loro sanno che tu in teoria sta là dentro soffrendo con loro. È una parte dove si può ogni tanto a spingere un po', però il mio ruolo non è cambiato, se io sono in campo no, ovviamente sono molto contento per tornare in campo con i miei compagni, ho lavorato tanto negli ultimi quasi 9 mesi e sono contento.